Nuove corse per venire incontro alle esigenze degli studenti pendolari, la disponibilità ad adeguare gli orari del servizio di trasporto per quanto possibile a quelli degli istituti scolastici, tutt'ora in via di definizione un dialogo costruttivo con gli enti territoriali per individuare le soluzioni più idonee. Sono queste le iniziative intraprese da Ferrovie del Sud-Est, società del polo passeggeri del gruppo FS, per superare alcuni disagi dovuti a un aumento della domanda verificatesi alla ripresa dell'anno scolastico. Le novità sulle corse riguardano in particolare l'incremento dell'offerta di posti sulla linea San Pancrazio Brindisi con una nuova corsa per gli studenti alle 6.50, i nuovi collegamenti sulla Mesagne Sandonaci, sulla Ostuni Francavilla Fontana e sulla Villa Castelli Ostuni e l'incremento dell'offerta di posti sulla linea Ceglie Messabica Cisternino con nuove corse in partenza da Ceglie alle 7.35 e in partenza alle 13.10 da Cisternino. Ulteriori rimodulazioni potranno essere effettuate nei prossimi giorni una volta ricevute le informazioni da parte di alcuni istituti scolastici. La programmazione degli orari di trasporto di ferrovie del sud-est dipende dal numero degli studenti viaggiatori e dagli orari di ingresso e uscita da scuola. Informazioni che si stanno recependo con la programmazione definitiva degli orari scolastici. Il piano di investimenti cofinanziato dalla Regione Puglia prevede nel corso del 2024 l'entrata in servizio di 38 nuovi bus da utilizzare su tutta la rete per migliorare il comfort di viaggio e ridurre l'impatto ambientale in un'ottica di sostenibilità del trasporto pubblico locale.